Benvenuti alla mostra, il progetto La Buona Strada, dell'Istituto Comprensivo Genova Castelletto. L'educazione alla sicurezza stradale si riconduce facilmente all'educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva. Essa prevede l'insegnamento dei comportamenti corretti da tenere in strada e delle norme fondamentali ai quali si devono a tenere i pedoni gli automobilisti. Lo scopo non è soltanto pedagogico, ma anche quello di raggiungere attraverso una corretta formazione la diminuzione dei sindi distri stradali. Importante ricordare che gli incidenzi stradali sono una delle principali cause di morte per i giovani fino ai 25 anni di età. Fondamentale è quindi avviare in nuova generazione allo studio e alla conoscenza della cultura della sicurezza stradale. Quest'anno non si potranno parlare della tragedia che la città di Genova ha vissuto con il crollo del Ponte Morandi. In questo progetto sarà affrontato l'argomento con l'aiuto di esperti della Polizia Stradale in sinergia con i docenti dell'Istituto. Il progetto La Buona Strada verterà alla sensibilizzazione degli alunni e alla cittadinanza al problema della velocità in area urbana, alla motivazione e al rispetto delle norme del codice della strada e all'individuazione di alcuni dei problemi legati alla viabilità pedonale nella zona circostante della scuola e punterà all'informazione e formazione del comportamento previsto dal codice della strada riguardanti il pedone, il ciclista, il passeggero su veicolo privato pubblico e il conducente verso il pedone. Lo scopo sarà quello di ottenere comportamenti autonomi e sicuri degli alunni lungo alcune delle strade del quartiere e l'acquisizione consapevole di un comportamento in linea con le norme che regolano il traffico. Non ultimo e meno importante la sensibilizzazione è il coinvolgimento delle famiglie riguardo l'uso moderato dell'autoveicolo per il percorso casa-scuola. Per l'anno scolastico in corso 2018-2019 verrà ampliata la parte riguardante alla mobilità sostenibile e in particolare l'uso della bicicletta, le norme del codice della strada che ne regolano la viabilità e i comportamenti corretti e sicuri dei ciclisti. Occuparsi di mobilità sostenibile significa assumersi l'impegno di educare tutti noi alla consapevolezza che la qualità dell'aria è un elemento fondamentale per la salute. Il progetto della buona strada tratta uno dei temi di maggiore attualità dei nostri tempi, proprio perché ognuno di noi ha bisogno di utilizzare la strada e difendersi dai propri pericoli, dei suoi pericoli. Ci si propone quindi di costruire un percorso educativo che insegna gli alunni a vivere la strada in modo più attento, sicuro e responsabile, come protagonisti del traffico, sia come pedoni, sia come ciclisti, sia come futuri motociclisti e automobilisti. È fondamentale pertanto intervenire in maniera precoce e formante con un'educazione che guidi i comportamenti dei bambini e dei giovani ai confronti della strada. Il progetto della buona strada non dovrà essere sviluppato come una disciplina autonoma, ma inserito nella trasversalità del curriculum, per dare un'autenticità alla continuità educativa, alla quale sono chiamata a concorrere tutte le materie scolastiche. Tra gli obiettivi principali c'è quello di coinvolgere ed educare i ragazzi con età compresa tra i 6 e i 14 anni della scuola dell'istituto comprensivo Castelletto, individuando i loro bisogni e le loro richieste, calibrando i percorsi educativi nelle diverse fasce d'età. L'efficace educazione sui corretti comportamenti da seguire in strada instaura sui alunni una cultura formativa civile, che diventa parte integrante del loro modo di vivere e che li porta a considerare il rispetto delle regole in un normale atteggiamento da seguire. Un altro obiettivo è quello di promuovere il diffusione del Bike to Work e Bike to School. Questi che vedete sono i lavori che hanno eseguito tutte le classi nell'istituto comprensivo Castelletto, in una mostra aperta anche al quartiere. Vi aspettiamo numerosi! Grazie! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.